Col 2019 arriverà anche il picco dell'influenza. Non ci si attende nulla di nuovo rispetto agli ultimi anni. In base alle previsioni degli esperti, l'influenza 2019 non dovrebbe essere dissimile da quella della stagione passata, sia sotto il profilo dei numeri coinvolti che dell'entità dell'epidemia. I ceppi di virus responsabili del maggior numero di infezioni, nominati in base alle zone in cui sono insorti, sono il Michigan, il Singapore, il Colorado ed il Phuket. Si tratta di due vecchie conoscenze, il primo è il celebre H1N1 già coperte dal vaccino dello scorso anno e di due novità. I primi due ceppi, che sono anche quelli che provocheranno il maggior numero di contagi, sono già coperti dai vaccini dell'anno scorso, mentre i nuovi arrivati sono alla base dei vaccini quadrivalenti già disponibili. In tutti i modi non c'è motivo di farsi prendere dal panico. Nonostante sia una patologia da non sottovalutare, spesso basta un po' di riposo e la giusta dose di medicinali per superare il malessere senza difficoltà, solitamente nel giro di una settimana, anche se tra i bambini, che sono i principali diffusori dei contagi, normalmente l'influenza dura qualche giorno in più. I sintomi sono sempre quelli, febbre alta, dolori muscolari e articolari, spossatezza, rinorrea, mal di gola e sintomi respiratori. Solitamente, come detto, si guarisce nel giro di una settimana, ma la tosse può durare più a lungo, così come il senso di malessere generale. Finora è stato colpito circa un milione di italiani, ma il picco dell'epidemia è atteso tra la seconda e la terza settimana di gennaio. Alla fine, secondo le previsioni del portale InfluNet, il Sistema Nazionale di Sorveglianza Epidemiologica dell'Influenza, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, saranno state contagiate circa 5 milioni di persone. C'è da dire che in questa stagione invernale si è registrata un'impennata nella domanda delle vaccinazioni e questo sta creando non pochi grattacapi a medici e centri specializzati a causa della carenza di scorte. In molti casi i vaccini sono infatti andati esauriti, ma fortunatamente dall'estero sta arrivando un cospicuo lotto di circa 50 mila dosi di vaccino quadrivalente, che dovrebbero garantire le coperture in extremis. Secondo gli esperti, il boom di richieste è legato alla pessima stagione influenzale dello scorso anno che ha portato sotto i riflettori la pericolosità della patologia. L'elevata domanda si è tuttavia scontrata con la prudenza delle istituzioni nell'ordinare i vaccini dopo diversi anni in cui la copertura in Italia è risultata piuttosto bassa. Piuttosto ha senso ancora vaccinarsi dato che normalmente si viene invitati a farlo ben prima che l'epidemia giunga alla sua fase critica? Per gli esperti assolutamente sì. Certo ormai è praticamente impossibile evitare col vaccino una potenziale infezione per i prossimi giorni di capodanno. Tuttavia si è ancora in tempo per schivare il pericolo del picco epidemico, atteso tra il 10 e il 20 gennaio. Infine, gli ultimi numeri disponibili. Nella cinquantesima settimana del 2018 si sono ammalate oltre 200 mila persone, per un totale di oltre un milione di italiani colpiti, come già detto. Ma si tratta di cifre destinate a salire sensibilmente nelle prossime settimane. Superato il picco, ci sarà la discesa. Grazie a tutti.